Da un lato c'è la riapertura dell'ex Tribunale di Rossano, che oggi sarebbe di Corigliano Rossano, dall'altro il potenziamento di quello di Castrovillari che nell'ultimo decennio, ovvero dopo la chiusura del Tribunale Ionico avvenuto nel 2012, ha dovuto far fronte a una mola di lavoro enorme a causa di una riforma della giustizia che non ha portato evidentemente ai risultati sperati. Si muove su questi due assi paralleli la mappa della giustizia in provincia di Cosenza. Assi paralleli, come detto, ma certamente non antitetici perché i due percorsi possono tranquillamente convivere. Il percorso per la riapertura del presidio di giustizia a Corigliano Rossano procede spedito, anche se non è possibile al momento conoscere le tempistiche. Il potenziamento del Tribunale della città del Pollino, analogamente, sembrava poter essere un percorso in discesa, ma secondo quanto emerso negli ultimi giorni ci sono alcuni rallentamenti. In buona sostanza esiste un finanziamento di oltre 6 milioni di euro per completare quella che può essere considerata una vera e propria cittadella della giustizia, ovvero un progetto ideato ai tempi della realizzazione del nuovo Tribunale che collega il Palazzo di Giustizia, l'aula bunker con la casa circondariale e che prevede oggi anche il trasferimento degli ufficiali giudiziari e del giudice di pace alla nuova struttura. Senza dimenticare, capitolo però diverso, la nuova caserma dei Vigili del Fuoco che sorgerà nella stessa zona. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Domenico Lopolito, ultimato il percorso tecnico ci sarebbero però dei rallentamenti di tipo burocratico. Non mancano quindi i fondi che bisognerebbe invece utilizzare per accelerare i tempi. Rafforzare il Tribunale di Castrovilleri del resto non significherebbe non riaprire quello di Rossano. L'emergenza criminalità nell'area Poldino-Sibaritide passa anche da queste scelte.